Non abbiamo tempo da perdere, andiamo! Non abbiamo tempo da perdere, andiamo! Siamo tornare a la base, pass! Siamo tornare a la base, pass! Siamo tornare a base, pass! Sì, ho individuato la gestione in zona, pass! Atenzione in corinistro, ha neutralizzato, pass! Siamo portando fine! Abbiamo perso tutti gli obiettivi! Ultimo forzo, siamo facciati! Siamo portando fine! Abbiamo perso tutti gli obiettivi! Ultimo forzo, siamo facciati! Siamo avanti! Comunicativamente è stato neutralizzato, pass! Ruizietto! Un impegno è stato neutralizzato! Attenzione, obiettivo preso e assicuro, spazzo. Soldato nemico ammettato nell'area, procedere con i soldi e l'abbasso. Soldato nemico ammettato nell'area, procedere con i soldi e assicuro, spazzo. Soldato nemico ammettato nell'area, procedere con i soldi e assicuro, spazzo. Soldato nemico ammettato nell'area, procedere con i soldi e assicuri, spazzo. Sì! No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho localizzato un LAP nemico. Passo. Attenzione, l'obiettivo è stato preso. 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 Attenzione, l'obiettivo è stato preso. Passo. 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 Attenzione, l'obiettivo è stato preso. Attenzione, l'obiettivo è stato preso. la sclazione, l'obiettivo è stato preso. Attenzione, soldato nemico nell'area, passo. A presto! Sì soldato nemico da polo, da polo, da polo, da polo M 89 B M 82 B M 90 B No, no! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.